Eccoci su Sicilia24, ben ritrovati, una nuova edizione di Spazio e Notizia che apriamo parlando di politica, ci sono un bel po' di cose da vedere, dichiarazioni da ascoltare. Partiamo dalle parole di Gianfranco Micichè, quindi dalle parole del coordinatore di Forza Italia in Sicilia che è tornato a parlare del recente vertice della coalizione di centrodestra, vertice a cui non ha partecipato Fratelli d'Italia. Era importante, ha detto Micichè, che il vertice ci fosse. Fratelli d'Italia ha ritenuto, avvertendoci prima con cortesia, di non essere presente. Li abbiamo invitati alla prossima riunione che avverrà a giorni. La coalizione deve prendere una decisione e noi speriamo di prenderla insieme con Fratelli d'Italia. Certo sarebbe una brutta cosa farlo senza. La coalizione è con Fratelli d'Italia, ha ribadito Micichè, per partito che a livello nazionale è centrale nell'alleanza, mentre in Sicilia lo è Forza Italia. Se continueranno a non presentarsi assumeremo la decisione del caso. La data limite per la scelta è il giorno prima della presentazione delle liste. Dunque Micichè, Forza Italia e il centrodestra in Sicilia apre nuovamente le porte a Fratelli d'Italia. E a proposito di Fratelli d'Italia e dell'unità del centrodestra ha parlato anche l'attuale presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Stiamo lavorando, ha detto, e Giorgia Meloni prima fra tutti, per ricostruire un centrodestra che dalla Sicilia, dalla Vittoria alle regionali in Sicilia, può lanciare un forte segnale a pochi mesi dalle elezioni politiche. La coalizione è già un fatto, ha detto Musumeci, il problema è ricostruirla. Il centrodestra non può essere solo una somma aritmetica, ha sottolineato l'attuale governatore siciliano, deve essere un comune sentire, una comune strategia, un comune linguaggio, pur nella diversità delle singole forze politiche. E ha parlato anche Cateno De Luca, lo ha fatto come al solito attraverso i social e come sempre un fiume piena. Ha parlato di Musumeci, ma ha parlato anche di una proposta che gli è stata fatta di recente proprio dagli esponenti del centrodestra. Sentiamolo. Ieri ho ricevuto una telefonata da un pezzo importante del centrodestra, erano in conclave o sedute spiritiche, chiamiamole come vogliamo, e mi è stato sostanzialmente fatto l'ultima chiama, come si dice tecnicamente, e mi è stato chiesto ma allora che cosa vuoi fare, vai fino in fondo e troviamo l'accordo, pronti anche a ridiscutere con te tutte le posizioni, anche la candidatura alla presidenza della regione. Aspetta guardate, io già sono sindaco di Sicilia, quello che ormai l'andamento, l'orientamento degli elettori mi fa presumere che vinciamo col 41%, perché dovrei accordarmi con un pezzo della banda Bassotti politica per fare fuori musumeci, fatevelo fuori voi per i fatti vostri, ovviamente ho detto sbagliate, perché musumeci lo voglio battere sul campo, perché continuo a dire stronzate su tutti i fronti, questo è ormai il personaggio che si è svenduto la Sicilia in termini irreversibili, non so cosa lo troveremo quando metteremo piedi lì a Palazzo Torleano, però una cosa è certa, continua la campagna stile ventennio, l'olio di ricino e soprattutto la propaganda, la mistificazione su tutti i fronti, poi quello dei rifiuti è il più ovviamente eclatante, ma ne parleremo domani, oggi non abbiamo il tempo di fare un ragionamento articolato, ribadisco il concetto che il personaggio da questo punto di vista purtroppo si è svenduto la Sicilia. De Luca ha parlato anche del centro-sinistra, qui non l'avete sentito perché questa era solamente una piccola parte, la parte finale del suo discorso, ha parlato anche del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle in vista delle primarie, questo perché il Movimento 5 Stelle ha scelto Barbara Floridia come candidata alle prossime primarie, la scelta che è stata fatta poi alla fine dal presidente del Movimento Giuseppe Conte, quindi sarà proprio Barbara Floridia che si aggiunge a Caterina Chinnici per il PD e De Luca dice che sarà proprio Chinnici alla fine la candidata alle elezioni regionali e Claudio Fava del Movimento 100 Passi, Barbara Floridia che ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti e adesso si riparte, ha detto, si riparte da noi, dalla Sicilia. Ringrazio per la fiducia il nostro presidente Giuseppe Conte e tutti i colleghi del Movimento 5 Stelle della Sicilia che da anni in regione sono stati al servizio dei cittadini lavorando con passione. Sono davvero onorata, ha aggiunto, di rappresentare il Movimento 5 Stelle alle primarie in Sicilia per diversi motivi, ma uno su tutti voglio scriverlo, la Sicilia non è solo una regione, la mia regione, una bella regione, la Sicilia è la ragione, la ragione per cui abbiamo scelto di fare politica, la ragione che ci spinge a credere, la ragione per cui non mollerebo mai, ha dichiarato Barbara Floridia. Floridia scelta dopo il ritiro da parte di Cancelleri, il quale lo aveva già annunciato nei giorni scorsi, che appunto non si sarebbe presentato alle primarie come candidato del Movimento 5 Stelle, ma Cancelleri che ha voluto ribadire il concetto in una conferenza stampa organizzata al Palazzo dei Normanni. Perché? Perché ha chiaramente confermato che non si candiderà alle primarie e quindi poi eventualmente se avesse vinto insomma le elezioni regionali, ma ha detto che non esce dal Movimento 5 Stelle e Casa Mia ha detto, ho contribuito a fondarlo e fortificarlo in Sicilia e sarà ancora Casa Mia. Ammesso che c'è stata un'evoluzione da parte dello stesso Movimento e che adesso vede la coalizione come uno dei momenti più importanti e le primarie, dice Cancelleri, sono una parte fondamentale. Abbiamo fatto tante battaglie, tante campagne elettorali con performance incredibili, certo abbiamo fatto fatica alle elezioni amministrative, ma ripeto, questa è Casa Mia e non esco. Oggi, ha aggiunto Giancarlo Cancelleri, dobbiamo partire da qui perché in Sicilia il Movimento può raccontare ancora tante cose importanti. E con le parole di Giancarlo Cancelleri chiudiamo quest'ampia pagina dedicata alla politica, adesso parliamo di cronaca con una prima notizia da Trapani dove sono finiti in manette cinque persone, vediamo perché. Gli operatori della squadra mobile della questura di Trapani hanno tratto in arresto cinque persone negli ultimi giorni. In particolare sono stati arrestati tre cittadini stranieri destinatari di dibieti di reingresso rintracciati dalla Capitaneria di Porto a largo delle coste di Pantelleria. Gli agenti della Polizia di Stato, al termine di estenuanti procedure di identificazione, li hanno individuati tra i numerosi migranti tunisini, sottoponendoli poi alla misura. I poliziotti hanno anche eseguito un ordine di carcerazione emesso nei confronti di un altro cittadino tunisino a seguito di sentenza di condanna per furto pronunciata dal Tribunale di Firenze. È finito in carcere infine un 23enne trapanese a cui gli agenti della squadra mobile hanno notificato un ordine di carcerazione emesso dalla locale procura, quale cumulo delle pene inflitte dal Tribunale di Trapani per diversi delitti commessi dal giovane, tra cui tentato omicidio, lesioni personali, porto abusivo di armi, resistenza pubblico ufficiale ed evasione. Non si placa l'emergenza incendi, ancora roghi nella Catanese due distinti interventi da parte dei vigili del fuoco, il primo a Catania in via Aquicella Porto per un incendio di Sterpagli e sono intervenuti in questo caso i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Vizzini, ma poi un intervento molto più importante a Caltagirone dove sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco, una del distaccamento di Caltagirone e l'altra del distaccamento di Palagonia insieme ai volontari di Vizzini e con il supporto di due autobotti e di un mezzo speciale inviato dalla sede centrale del comando provinciale, dicevamo tre squadre dei vigili del fuoco intervenute nella zona industriale di Caltagirone per lo spegnimento dell'incendio del tetto e di pannelli fotovoltaici in un capannone di giocattoli e materiali plastici. Queste sono le foto che si riferiscono proprio a questo incendio avvenuto e in corso, tuttora in corso a Caltagirone. Proseguiamo, parliamo ancora di cronaca, adesso una notizia da Gela su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un soggetto indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati e tentativo di incendio diretto all'abitazione della parte offesa. Le indagini effettuate essenzialmente attraverso accertamenti di natura tecnica sui luoghi dell'evento incendiario e l'analisi di alcuni sistemi di videosorveglianza hanno consentito al GIP di ritenere sussistenti gravi indizi di reato nei confronti dell'indagato in ordine all'atto intimidatorio subito dalla parte offesa. E parliamo ancora di maltrattamenti in famiglia ma ci spostiamo virtualmente a Catania, un uomo maltrattava i propri genitori e la madre esasperata a tal punto da denunciarlo ai carabinieri. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato un 49enne catanese poiché gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia. La centrale operativa aveva ricevuto la richiesta di intervento da parte di una donna che in particolare avvertiva l'operatore di aver dato assistenza a una vicina di casa vittima delle violenze del figlio. I militari recatisi sul posto all'interno di una palazzina del centro storico di Catania hanno constatato che la vittima, una donna di 74 anni, si trovava ancora ospitata presso l'abitazione della Chiamante. La poveretta, ancora dolorante e con lividi sulle braccia a testimonianza dell'aggressione del figlio che le avrebbe dato addirittura un morso, prima di essere affidata alle cure del personale del 118, ha riferito ai militari di non aver mai denunciato il figlio per paura di nuocere a quest'ultimo nonché per timore di sue conseguenti ritorsioni. Solo dopo l'ultimo episodio per la sua violenza si sarebbe decisa a richiedere aiuto temendo per l'incolumità propria e del marito, anche egli anziano e incapace di contrastare fisicamente il figlio. Quest'ultimo infatti, anche a causa dell'abuso di alcol, negli ultimi tempi aveva fortemente peggiorato il proprio comportamento nei confronti dei genitori mostrandosi sempre più aggressivo e violento. Nella circostanza i militari, entrati all'interno dell'appartamento condiviso con i genitori, hanno dovuto contrastare la reazione dell'uomo anche nei loro confronti, dapprima verbale con frasi ingiuriose e minacce gravi, quindi passata a vie di fatto con calci al fine di divincolarsi. L'uomo, già associato al carcere catanese di Piazza Lanza, all'esito dell'udienza di convalida è stato sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Ancora cronaca ad Augusta, i carabinieri della locale Compagnia, nell'ambito dell'attività finalizzate alla prevenzione di reati in genere, hanno eseguito svariati servizi controllando diversi esercizi commerciali, 476 persone e 338 veicoli, eseguendo varie perquisizioni personali veicolari e domiciliari e contestando violazioni al codice della strada, le sanzioni connesse alle predette violazioni raggiungono un importo di circa 37 mila euro. Nell'ambito dei controlli i carabinieri hanno deferito all'autorità giudiziaria Retusea due giovani megaresi trovati in possesso di circa 21 grammi di hashish contenuti in un involucro in cellofan che uno dei due ha tentato di occultare in bocca. I carabinieri della stazione di Lentini invece hanno segnalato alla prefettura cinque giovani della zona trovati in possesso di circa due grammi tra marijuana e cocaina. Ed ora invece una notizia che arriva da Lentini, gli agenti del commissariato hanno denunciato un uomo di 28 anni residente a Carlentini e già conosciuto alle forze di polizia per il reato di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione del denunciato, gli investigatori del commissariato hanno rinvenuto e sequestrato 30 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, diverse banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell'attività illecita e un foglio annotato con la rendicontazione dell'attività di spaccio. Ci spostiamo adesso invece virtualmente a Salemi, continuiamo a parlare di cronaca. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 49enne del posto per l'ipotesi di reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo. I carabinieri hanno svolto una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo, rinvenendo un fucile a due canne calibro 10 e un fucile a due canne ad avancarica calibro 12, illegalmente detenuti. E con questa notizia ci fermiamo, chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia, ma ci ritroviamo più tardi come sempre su Sicilia 24. A dopo.